Questo è un presepe tradizionale, noi l'abbiamo voluto legare anche alla tradizione della capitale, qui siamo nella capitale, abbiamo voluto anche nel presepe che abbiamo chiesto di allestire, abbiamo voluto anche un simbolo particolare quest'anno. Tra le statuine del presepe la statuina che ho portato io è la statuina di Salvatore Girone, quindi di una persona che manca oggi in Italia, lo dico perché mi dispiace che ieri il Presidente della Repubblica pur ricordando le forze armate non abbia inteso spendere una parola per i nostri marocchi, sono ancora formalmente detenuti entrambi per una vicenda che è fuori da ogni possibilità di dignità per una qualunque nazione in tema di diritto internazionale, e quindi abbiamo voluto le statuine di la Torre Girone da mettere nel presepe perché non c'è festa senza la possibilità per due militari italiani detenuti in violazione del diritto internazionale di essere liberi e di veder riconosciuto quel diritto internazionale. Va bene.